A Foligno, un ragazzo di 19 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo una serie di gravi minacce e comportamenti persecutori nei confronti di una sua ex compagna di classe, una ragazza di 18 anni. Il giovane, non accettando la decisione di terminare la loro breve relazione, ha cominciato ad essere aggressivo e a minacciarla di usare l'acido per sfregiarla. Il caso è emerso grazie alle indagini condotte dai carabinieri di Foligno, che hanno documentato come il giovane Stolking abbia ripetutamente cercato di contattare la vittima. Ha inviato numerosi messaggi minacciosi e l'ha chiamata frequentemente, utilizzando anche amici comuni per raggiungerla. Era diventato particolarmente incalzante e persecutore includendo anche episodi di aggressione fisica. In una circostanza, durante una pausa scolastica, ha sputato addosso alla sua vittima. In un altro frangente, è stato sorpreso nei pressi dell'istituto scolastico armato di una spranga di ferro. Tutto questo ha aumentato le preoccupazioni per la sicurezza della giovane e della sua famiglia. Tutti fatti oggetto di insulti e minacce dirette. Dati i ripetuti e gravi atti persecutori, che hanno messo in serio pericolo l'incolumità fisica e psicologica della studentessa, il giudice per le indagini preliminari valutando le prove raccolte dalla procura e dai carabinieri, ha deciso per l'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti del 19enne. Tale misura cautelare riflette la necessità di proteggere la vittima e di prevenire ulteriori episodi di violenza, garantendo così un ambiente sicuro per lei e per la comunità scolastica in generale.